Mariano Friedrich 419 808 con una media di 55 425 Christopher Borman affronterà in questa sesta batteria il tedesco Jens Lehmann Jens Lehmann che si è classificato secondo al campionato nazionale campionato nazionale vinto da Eikoson che nella quinta batteria ha fatto fermare i cronometri sul 4 22 0 0 9 Andrea Collinelli medaglia d'oro ad Atalanta parterà in nona e ultima posizione il suo antagonista sarà lo spagnolo Juan Martínez Oliver ricordiamo a titolo di cronaca che Andrea Collinelli ha realizzato alle Olimpiadi anche il record mondiale 419 699 allora ecco che stanno preparando i due marchi ingegni vediamo sul rettilineo opposto Christopher Borman che non ha ancora preso posizione eccolo qua Christopher Borman è stato inserito nella formazione britannica all'ultimo momento al posto di Graham Aubry che l'anno scorso conquistò il titolo mondiale proprio superando in finale a Bogotà il nostro Collinelli Aubry evidentemente quest'anno non sta attraversando un buon periodo di forma lo ha dimostrato già alle Olimpiadi quindi hanno così deciso all'ultimo momento i tecnici della federazione britannica di sostituirlo con Chris Borman Borman che alle Olimpiadi aveva optato per la gara in linea a cronometro dove si piazzò al terzo posto riepiloghiamo l'ordine d'arrivo della cronometro su strada primo Indurain secondo Lano terzo Borman e quarto Fondries Borman che aveva guidato la classifica sino a pochi chilometri dalla conclusione poi ebbe un crollo verticale tre i titoli che verranno assegnati in questa giornata inaugurale chilometro da fermo l'usura in gara e Capitanio Keirin con i nostri Paris e schiappa ed infine l'americana con Martinello e Villa campioni del mondo l'anno scorso a Bogotà velodromo di Manchester mitico per gli inglesi che amano più le gare su pista che quelle su strada questo velodromo è dedicato a Reginald Harris c'è anche una sua statua proprio di fronte alla linea del traguardo Harris soprannominato lo sparvero di Manchester fu campione del mondo della velocità professionisti quattro volte nel 49 nel 50 nel 51 e nel 54 l'inseguimento di cui appunto stiamo seguendo la sesta batteria dei campionati del mondo e la specialità più amata dai britannici mentre Borman ha avuto una partenza veramente brutta e voluto uscire troppo in fretta dal dal marchiginio e ha avuto un un attimo di incertezza diciamo che questa è la specialità più amata dai britannici qui infatti ottenerono i loro primi successi Hugh Porter quattro volte campione del mondo nell'inseguimento 30 anni fa Doyle dieci anni fa e gli attuali mostri sacri Gria Mobri e Chris Borman ricordiamo che in queste batterie di qualificazione non importa se il corridore va a raggiungere l'altro importa il tempo intanto vediamo che Borman ha optato per quella posizione in bicicletta lanciata alla grande da Colinelli e dalla Belluto alle Olimpiadi Borman medaglia d'oro a in questa specialità a Barcellona campione del mondo tra i dilettanti e tra i professionisti il record dell'ora è accreditato di ottimi tempi in queste in queste prove però vediamo che non ha delle grosse difficoltà in questo confronto con James Lehmann il tedesco che ha dovuto usare una bicicletta non delle ultime in quanto che la federazione ha deciso di offrire il miglior mezzo meccanico all'altro al campione nazionale sono quindi in poche parole Lehmann sta galeggiando con il muletto per dirla con un termine automobilistico ecco che Borman incomincia ad aumentare era in parità la gara sui quattro chilometri vale dire quindici giri di pista pista che misura 250 metri ora continua ad aumentare il vantaggio di Borman eccoci con Borman ormai nettamente in vantaggio numero 50 è il numero di gara di Borman vedete il tempo di Borman 3.26 442 a 4 secondi di vantaggio nei confronti del tedesco che sta per essere raggiunto ma come già vi avevamo detto non viene eliminato il corridore che viene raggiunto perché valgono i tempi sono 18 i corridori di queste batterie di qualificazione andranno avanti in 12 quindi praticamente non ci sono problemi per i grandi mentre non c'è ricordiamo che la finale alle olimpiadi vide primo Polinelli secondo Ermeno terzo Meg G Ermeno lo vedremo poi nella penultima battaglia mentre Borman continua a volare verso attenzione attenzione non c'è molto pubblico logicamente siamo alla gara iniziale ricordiamo che c'è un'ora di differenza tra l'Inghilterra e l'Italia un'ora in meno qui in Inghilterra si è rialzato comunque ma hanno capito che non era il caso assolutamente di continuare quindi ora in pista è rimasto soltanto Chris Borman il record mondiale 419 699 siamo ai 4 minuti di gara per Borman eccolo qua con un'unica vita sarà lui il grande avversario ecco 4 4 ecco 413 il tempo 413 353 è il nuovo record del mondo quindi l'esordio di Chris Borman in questi mondiali è decisamente ecco tante record mondiale eccolo qua Chris Borman 413 353 nuovo record del mondo precedente record del mondo Andrea Collinelli all'Olimpiadi 419 699 si diceva che Borman fosse in grandi condizioni di forma che avesse ottenuto ottimi tempi in prova ha dimostrato che Chris Borman non solo è in grandi condizioni di forma ma che è da considerare sino a questo momento il grande antagonista di Andrea Collinelli con Borman e sicuramente avrai ciao ciao ciao